Stupore di notte La serata autunnale, serena e piacevole con gli amici, tra cibi prelibati con cura preparati e allegre barzellette, volge a malincuore a conclusione. È quasi mezzanotte, ora limite per la matura età. Si rientra con difficoltà nel centro, di luce animato. Nel cuore della notte si procede lentamente. Ovunque mi giri e guardi, nelle macchine e sui marciapiedi, dinnanzi ai locali e nelle strade, osservo e noto con stupore. Un formicaio umano si aggira, un brulichio vivace nell'aria si diffonde. Non bambini né anziani, solo giovani, ben omologati per mode e stili di vita, visibilmente spensierati, passeggiano lenti, discutono animosi, sorridono fragorosi. I giovani vivono di notte e di giorno dormono fino a mezzogiorno. Notte vita, giorno sonno e risveglio, forse amaro, nell'opaco magma sociale, orfano di un futuro luminoso. Carpe Diem, cogli l'attimo, è l'antidoto sempre vivo della giovanile precarietà.